siamo live buonasera a tutti allora abbiamo ancora due minuti tanto vi scrivo un messaggio nella chat visto che mi chiedete sempre se poi il video sarà disponibile per la videoregistrazione quindi sì lo sarà o su youtube o all'interno dell'academy nell'area gratuita con le lezioni gratuite il video sarà disponibile ok se per cortesia mi potete confermare l'audio così tra due minuti partiamo oggi parliamo di redesign per ecommerce e vedremo un pochino quello che è lo stack stack per gli sviluppatori il processo di sviluppo quali sono le nuove tecnologie che si possono utilizzare per lo sviluppo del front end parleremo di quindi di amp di pva di mobile first quindi dell'importanza del mobile e poi andremo a vedere dei casi studio dove abbiamo applicato nostra metodologia di lavoro per la parte di redesign sia su nuovi progetti sia su progetti che hanno un po più di di corso appunto di tempo perché questo è un primo concetto importante che vi introduco ancora prima di partire quando andiamo a misurare il redesign non lo dobbiamo vedere il giorno dopo che mettiamo online il sito nuovo ma lo dobbiamo vedere nel tempo quindi spesso si fa l'errore di fare il sito nuovo e di andare a vedere le performance dal day one del sito nuovo invece va visto su un arco temporale più lungo e soprattutto se andiamo a misurare le performance queste devono essere misurate sempre anno su anno ok questo è un altro concetto importante quindi mai visto il periodo questa settimana rispetto alla settimana prima perché è sempre anno su anno la misurazione che dobbiamo andare a fare ciao giuseppe mi confermi che l'audio si sente bene ok allora vi setto un messaggio aspettiamo ancora un minuto che si stanno collegando allora qui perfetto allora voi potete fare le domande poi andremo a rispondere andrò a rispondere visto che sono da solo ok grazie giuseppe le andrò a rispondere poi alla fine quindi intanto le potete fare poi le vedremo uno a uno aspettiamo ancora 30 secondi per poi iniziare con questo argomento che è un argomento in realtà che interessa sia i merchant sia le agenzie sia i freelance però non dobbiamo dar per scontato l'importanza di una buona UX di una buona grafica e davvero è molto importante ok allora direi che ciao angelo grazie a voi come sempre di seguirmi abbiamo preso ormai la quindi ogni settimana stiamo organizzando un webinar o una live sul sul nostro gruppo gli argomenti sono veramente tanti quindi abbiamo deciso insomma di farlo in maniera ricorrente poi se voi o sul gruppo di facebook per esempio ci segnalate alcuni argomenti che preferite approfondire ovviamente a livello gratuito siamo sempre ben disponibili per dare le migliori informazioni perché al di là poi di quello che facciamo quotidianamente e degli interessi che ci possono essere magari nel fare corsi nel fare consulenza eccetera però proprio personalmente a livello umano ci tengo molto che chi si approccia all'ecommerce oggi lo faccia in maniera seria con le giuste informazioni e principalmente aiutiamo molto gli imprenditori e l'agenzia non commettere degli errori e fare in modo che i progetti vengono implementati a dovere buonasera a tutti e benvenuti al webinar di oggi io sono francesco di ecommerce school parliamo di redesign andiamo a vedere insieme la roadmap del webinar di oggi vedremo come e quando fare il redesign perché non è scontato e spesso molti fanno il redesign nei momenti meno opportuni io mi sono trovato a a vedere degli imprenditori che avevano fatto il sito non avevano fatto mai advertising mai attività per produrre traffico e pensavano che fosse il sito sbagliato che non li faceva vendere no attenzione cioè io devo prima mettere il sito online con le mie best practice mandare traffico e poi vedere se c'è da fare ottimizzazione o meno non fate l'errore di cambiare al sito prima di aver portato comunque traffico e aver testato quelle che sono le performance quindi come quando fare il redesign il processo di sviluppo parleremo di pva progressive web app quindi un nuovo modo di sviluppare il front end con tecnologia javascript e le differenze tra adaptive e responsive quindi scrivetemi nei commenti se queste cose sono nuove oppure se le conoscete già mobile first perché è importante e come progettare quindi come rivedere la progettazione del nostro e commerce appunto partendo dal mobile risponderemo a una domanda molto importante il redesign aumenta le vendite vi farò vedere dei casi e come funziona e come andarlo a misurare anche questa attività che andiamo a fare e faremo poi una carrellata di casi studio partiamo dal quando e come farlo allora innanzitutto in che punto interviene il redesign nel nostro ciclo di vita del fare e commerce in startup che cosa facciamo non conosciamo tendenzialmente il nostro target di riferimento non abbiamo ancora i clienti quindi io non posso in startup avere un sito completamente modellato sul mio cliente target quindi che cosa faccio quando vado online per la prima volta applico le best practice in e commerce school insegniamo le best practice posso dire con orgoglio ormai da più di otto anni tendenzialmente per partire con un sito che sia usabile però non ho ancora i clienti che mi acquistano quando inizio andare online quindi cosa faccio vado online con le best practice inizio ad acquisire clienti attivo quella che si chiama l'analisi crow ossia un'analisi dell'ottimizzazione delle conversioni conversion rate optimization al fine di sondaggiare gli utenti raccogliere informazioni studiare i comportamenti conoscere le performance questo mi fa in modo che io incomincio a raccogliere dei dati e posso iniziare a modellare il mio e-commerce in base ai clienti che ho e qui poi interviene il processo di redesign quindi parto con le best practice attivo l'analisi crow porto traffico faccio redesign e questo deve essere un processo evolutivo non lo faccio una volta e poi non lo faccio più nella mia vita redesign deve essere costante ok adesso andremo a vedere in che modo quindi è conseguenziale a un'analisi crow noi in e-commerce school insegniamo un workflow piuttosto avanzato in realtà parte di questo workflow poi è stato lanciato anni fa i contenuti di e-commerce school sono al 100% di mia proprietà dove non sono le mie proprietà lo dico conversion excel di pip laggia che è un grosso gruppo americano che fanno crow hanno negli anni costruito un workflow di analisi dei siti sui quali noi ci siamo ispirati e ovviamente in massima trasparenza diciamo che quello è farina nel loro sacco siamo andati però ad agganciare delle analisi e a personalizzare questo workflow pertanto lo possiamo anche nominare con il nostro nome appunto verticalizzato su quello che è il nostro mercato italiano quindi che cosa facciamo io vado online con il mio sito quindi faccio la startup inizio a fare l'analisi commerciale cioè inizio a capire se la mia offerta i miei prodotti il mio catalogo le promozioni che faccio sono più o meno efficaci la gestione del pricing, i bundle eccetera eccetera quindi l'analisi commerciale è molto importante l'analisi dei fornitori, ci sono dei fornitori che tendenzialmente vi rovinano la vita quando avete l'e-commerce quindi l'analisi commerciale la inseriamo sempre in questo workflow perché vado online e devo iniziare subito a fare ottimizzazione perché porto traffico, magari le conversioni non sono quelle che mi aspettavo e devo iniziare a ottimizzarle faccio analisi dei dati, cosiddetta web analytics al punto 2, l'analisi tecnica che è un'analisi che va a vedere se il sito effettivamente è navigabile e fruibile su tutti i device considerate che oggi ci sono talmente tanti device che non potete dare per contato che il vostro sito al di là di qualsiasi piattaforma che andate ad utilizzare si veda ovunque banalmente ci sono dei telefoni di vecchia generazione che non supportano i css per esempio e quindi lì il vostro sito potrebbe avere dei problemi di navigazione in che modo lo vado a vedere, ci sono degli emulatori, insomma adesso non ve lo posso raccontare ci serve una tre giorni di corso solo per vedere tutto il funnel però il concetto è il redesign è dopo questa analisi fatta di analisi commerciale, analisi dei dati analisi euristica, quindi si vedono tutte le aree che si possono migliorare magari segnalazioni dei clienti, percorsi di conversione che si bloccano e quant'altro effetto sondaggi e monitoring degli utenti banalmente hot jar, quindi mappe di calore o crazy egg studio il checkout, studio i loro comportamenti definisco bene quelle che sono le mie buyer personas, quindi il mio target di riferimento c'è una parte poi avanzata di A-B testing quindi incomincio a testare le modifiche per poi iniziare a realizzare i wireframe grafiche personalizzate messe in produzione che rientrano nel contesto del redesign io adesso non ho tempo materiale per approfondirvi questo aspetto qui della crop però il concetto è prima di fare un redesign voi dovete fare analisi dovete fare analisi di cosa non funziona di dove perdete traffico, di dove perdete conversioni di dove gli utenti escono dal sito e andare a produrre delle modifiche sul vostro sito attuale che poi siano effettivamente comprovate da uno studio e un'analisi appunto di ottimizzazione delle conversioni quindi il redesign è sempre l'ultimo pezzo dopo un processo di ottimizzazione delle conversioni quando è che devo fare il redesign? mi metto un po' più piccolino perché altrimenti con il mio faccione non si vede tutto il resto allora innanzitutto se il tuo sito è obsoleto qui vi trovate un esempio un po' estremo sicuramente è obsoleto, è poco user friendly non pensato anche per le versioni mobile perché tanti siti oggi sono stati progettati magari qualche anno fa quando si progettava principalmente per il desktop mentre oggi, vi racconterò dopo all'interno del webinar si è spostato completamente il modo di progettare di pensare ai nostri e-commerce e si parte dal mobile quindi in questo caso hai bisogno di un redesign fate però attenzione che se il vostro sito ha tanto traffico e tanti clienti uno mi potrebbe chiedere che cosa intendi per tanto non so, centinaia di migliaia di visite al mese quindi 200-300 mila visite al mese un grosso database di clienti significa che c'è un pubblico che è abituato a navigare sul vostro sito da tanti anni non dovete fare l'errore di stravolgere completamente il vostro layout quindi in questo caso il redesign deve essere graduale cosa che per esempio abbiamo fatto su un nostro cliente storico che è Motobigliamento che diversi anni fa abbiamo fatto il redesign del loro sito vecchio questa che vedete sulla destra è la versione, la old version quindi la versione vecchia quando abbiamo riprogettato il redesign con un sito che ha 10 anni di vita che ha tantissimo traffico, tantissimo database io non posso andarli a stravolgere il layout perché? perché l'utenza che già acquista sul loro sito si troverebbe completamente spaisata e si troverebbe in un sito che è totalmente diverso quindi in questo caso più traffico hai e più il redesign deve essere graduale e magari fai diversi step questo per esempio poi lo riprendiamo nel caso studio abbiamo messo anche Motobigliamento tra i tanti però è il concetto di Amazon cioè se voi vedete le evoluzioni che ha fatto Amazon dal 2005 ad oggi sono state impercettibili quindi è chiaro che se prendo 2005 e 2020 è evidente però Amazon l'ha fatto un pochettino alla volta andando dove aveva visione di quello che sarebbe stato magari da lì a 5 anni, a 10 anni ma anche a 20 probabilmente a 20 forse non è troppo soprattutto in questo settore però il concetto è nonostante avesse una visione di dove doveva arrivare ha fatto sempre dei piccoli step di ottimizzazione e quindi anche dei redesign continuamente graduali tant'è che tra il 2005 e il 2010 le modifiche erano quasi impercettibili di lato utente e dal 2010 al 2020 altrettanto quindi Amazon che cosa fa? ha un rollout continuo, un'analisi costante modifica piccole cose non modifica interamente il sito perché se Amazon dovesse oggi rivedere completamente layout avrebbe una perdita di fatturato che tra l'altro è stata anche calcolata da uno studio americano dove dicevano che per ogni modifica che Amazon implementava nel sito perdevano X fatturato perché hanno talmente tanti utenti che c'è una parte di utenti che dice oddio non c'è più questa modifica e magari rimbalzano fuori dal sito quindi fate attenzione il redesign va bene ma se avete tanto traffico fatelo in maniera graduale quando invece posso farlo in maniera radicale quindi proprio buttare via tutto quello che ho fatto e dire tiro una riga e lo rifaccio ex novo ovviamente quando non avete traffico o ne avete generato poco quando vi rendete conto che avete una tecnologia che ormai è obsoleta magari non è responsive oppure utilizzate dei CMS o delle tecnologie che sono passate e gli utenti tendenzialmente vi stanno già abbandonando allora in quel caso potete anche optare per un redesign radicale oppure se hai talmente tante criticità che i tuoi clienti portano la tua attenzione e che sono più le criticità ad andare a sistemare che rifarlo completamente da zero allora puoi tirare una riga e lo rifai proprio in maniera radicale il concetto è devi dare comunque una continuità con il sito che il cliente prima vedeva ok? almeno che tu non abbia sbagliato tutto in fase di partenza allora tiri una riga e su carta bianca lo ridisegni from scratch come si dice tieni in considerazione anche che il design tu lo devi aggiornare in maniera costante non una volta ogni dieci anni molti e-commerce che fanno lo aggiornano una volta ogni quattro anni senza tra l'altro fare l'analisi crow e questo invece deve essere un percorso costante il miglioramento quindi fare sondaggi fare sondaggi veloci sul sito studiare comportamenti fare le videoregistrazioni le mappe di calore studiare il check out studiare i dati per capire dove gli utenti escono sul sito le frequenze di rimbalzo la durata media delle sessioni tutti questi dati sono fondamentali quindi le mani tra virgolette sul sito voi tendenzialmente ce le dovreste mettere sempre in una concezione del redesign costante graduale che vada a migliorare step by step day by day quelle che sono le cose che non funzionano che individuate voi o che ahimè possano individuare i clienti ma è meglio che vi anticipate e cercate voi di capire che cosa non funziona vediamo ora quello che invece è il processo di sviluppo un altro concetto legato al quando fare il redesign è questo se voi andate online portate traffico prima sul sito tanto se proprio vedete che non si converte allora andate a capire perché non convertite fate i sondaggi quello che ho appena detto e con tutte queste informazioni iniziate a fare il redesign non fate l'errore di fare il redesign quando ancora non avete portato traffico quando ancora non avete capito perché il vostro sito non vende perché non è detto che il vostro sito non venda perché non avete una buona usabilità ci sono tanti siti orrendi brutti non navigabili che fanno fatturati molto importanti che però vendono anche se hanno un sito che a livello di usabilità è terrificante a volte quindi il concetto è non per forza di cose non state vendendo soprattutto dopo la start up perché il sito non è usabile principalmente è quello che guida la vendita sull'online ma ovunque è il posizionamento commerciale è l'offerta è la vostra value proposition il catalogo che avete in che modo vi differenziate quindi lavorate sempre lì con molta importanza in fase di start up e cercate di capire effettivamente perché non vendete e non sempre è un discorso di usabilità per quanto riguarda il processo di sviluppo del redesign abbiamo tendenzialmente due opzioni possiamo o utilizzare dei template già pronti banalmente al di là delle piattaforme da Shopify WooCommerce Presta Shop Magento le custom quello che volete le custom non ce ne hanno in realtà i template già pronti però tutti gli open source o molti SaaS quasi tutti i SaaS hanno già dei template sui quali voi potete partire è chiaro che il template è molto limitato a livello di personalizzazione è già quello come ce l'hai tu lo possono installare anzi lo installano altri centinaia di e-commerce è più economico ha dei tempi di realizzazione veloci però ha limiti di personalizzazione e hai alla fine un design identico a tanti altri e-commerce cosa diversa invece è fare delle grafiche personalizzate come il processo che adesso vi faccio vedere dove che cosa fai prima lavori su wireframe quindi sulla bozza la struttura dell'e-commerce poi realizzi le grafiche e dopo queste grafiche le vai a montare sul tuo sito web ok quindi c'è tutto uno studio sull'usabilità che parte proprio dalla progettazione grafica alla progettazione dei wireframe è diverso partire da un template e sistema 4-5 banner cioè non c'è uno studio navigazionale quindi in questo modo con le grafiche personalizzate è vero che hai tempi più lunghi è vero che costa di più perché hai comunque uno stack più lungo di sviluppo e dei costi aggiuntivi per la parte di grafiche personalizzate però hai il tuo brand hai il tuo design e ti fai il tuo sito proprio come se lo potessi disegnare from scratch sulla carta quindi i percorsi sono che se il sito viene fatto dal cugino di turno sicuramente compra il template modifica nei limiti il template e poi va live mentre il professionista disegna a mano ancora prima di accendere il pc quindi ha già in mente quello che sarà il sito o magari lo abbozza banalmente su un foglio di carta costruisce il wireframe e lo discute col cliente realizza le grafiche navigabili con tutti gli asset separati adesso vi faccio vedere degli esempi su questi due processi effettua le ultime correzioni e poi c'è tutto lo stack di sviluppo se credi che un professionista ti costi troppo è perché non hai idea di quanto ti costerà alla fine un incompetente questa è una citazione del cugino il cugino anonimo io non voglio parlare di nessuno per carità però vedo veramente tanti siti presi buttati online senza un minimo di ricerca senza veramente metterci anche un il vostro obiettivo è di fare branded e-commerce cioè di fare e-commerce che abbiano un brand che abbiano un'immagine che abbiano un'identità non stiamo parlando solo del logo stiamo parlando di caratterizzazioni stiamo parlando di icon set dedicati di font di percorsi di navigazione di immagini di identità del brand cioè questo l'obiettivo ammonte al di là poi del processo di redesign quindi lo step 1 è innanzitutto devo affrontare un redesign ho già fatto tutto lo studio di analisi di ottimizzazione dell'usabilità inizio a farmi i miei wireframe questo è un lavoro ovviamente che fa il web designer inizia a buttarsi giù le sue idee per poi iniziare a fare wireframing ok che sono delle bozze strutturali dove non c'è la grafica ci sono le section dove in questa fase questo è un software si chiama balsamic mockup ma uno lo potrebbe fare anche in illustrator per esempio dove vado a definire quelli che sono gli elementi le section a che cosa servono perché devono essere messe qual è la finalità fatto il wireframe inizio a produrre le grafiche le grafiche noi per esempio utilizziamo un software che si chiama figma ma c'è adobe xd ce ne sono tanti uno vale l'altro tendenzialmente dove le grafiche vengono realizzate già con tutti gli asset separati quindi c'è la grafica desktop mobile tutta la libreria dei vari componenti le icone separate e questi sono software che ti danno già anche il css quindi agevolano molto la fase anche di sviluppo per gli sviluppatori questo è sempre figma la parte degli icon set dove ci sono la paletta colori tutte le iconcine tutte ben divise ok quindi è un processo più lungo più strutturato ma non è come lavorare per esempio su un template una volta che ho fatto le mie grafiche quindi realizzo la bozza su carta faccio i wireframe con balsamic illustrator mocaps eccetera eccetera realizzo le grafiche in photoshop molti lo fanno in photoshop va bene fatele in photoshop fatele in illustrator come volete sono strumenti più avanzati come figma top xd che ti permettono di lavorare a livelli e di avere tutti gli icon set separati dopodiché dovete se siete in un'agenzia per esempio presentare il lavoro al cliente vanno montate le grafiche cioè gli va dato al cliente un sito navigabile finto tendenzialmente con delle pagine statiche marvel app permette di fare questo ma ripeto i software sono tanti per far rendere conto al cliente come le grafiche poi sono fatte per le varie pagine e un minimo di navigazione questo è un esempio sempre di marvel app con tutte le grafiche navigabili una volta prodotte le grafiche si passa alla fase di sviluppo testing e go live non fate l'errore di mettere online un sito spesso cosa succede che si arriva in ritardo con le consegne perché magari anche gli stessi merchant spesso danno in ritardo i contenuti all'agenzia per mettere online nel sito quindi si arriva sempre con l'acqua alla gola che bisogna fare il go live il giorno dopo non si fa spesso abbastanza user testing che invece deve essere fatto ossia prima di mettere il sito online deve essere testato il sito nei percorsi di navigazione devono essere fatti tutti gli opportuni test e se siete invece dei merchant degli imprenditori non fate l'errore di fare le promozioni il primo giorno che andate online quindi andate online tenetevi sempre quei 7-10 giorni per testare completamente il sito perché alcune cose le dovrete e potrete testare solo nel momento in cui andate online e in area di sviluppo quindi prima di andare online non tutto una grossa parte quasi tutto ma non tutto è testabile quindi devi fare anche una piccola parte di test nel momento in cui vai live e quindi tenetevi sempre un minimo di giorni per testarlo e poi quando è tutto a posto partite con le campagne partite con le promozioni e tutto il resto ovviamente deve essere il redesign di solito interviene che c'è già un sito quindi c'è già un sito io non è che lavoro direttamente sul sito in produzione non sarebbe possibile quindi metto in parallelo un'area di sviluppo lavoro sull'area di sviluppo li tengo lineati ovviamente i due siti nel momento in cui nell'area di sviluppo ho il sito pronto faccio lo switch e mando quello nuovo online quindi è importante anche questo passaggio pensate al mobile pensatelo mobile first quindi partite dal mobile perché perché ad oggi questo è un studio che ha fatto Apple che dice che gli utenti controllano lo smartphone dalle 80 alle 100 volte al giorno se avete Apple sapete che c'è un'applicazione interna che vi dice il consumo che fate delle app quindi lo potete vedere anche voi e effettivamente insomma ci sta quindi immaginatevi come è fatta di micromomenti ed è frammentata la navigazione online da parte degli utenti uno è in metropolitana guarda due minuti arriva sul tuo sito poi deve scendere spegne quindi non vi preoccupate se il tasso di conversione dal mobile è molto più basso del desktop è ovvio che sia così tant'è che le proporzioni di solito sono uno a tre uno a cinque cioè se sul mobile converto uno sul desktop tre o cinque addirittura proprio per questo in più gli utenti si informano tanto da smartphone per poi acquistare anche in un secondo momento c'era una ricerca di qualche anno fa di Statista che è una banca dati molto conosciuta e molto affidabile che diceva che nel 2021 le transazioni mobile sarebbero arrivate al 73% io l'ho tenuta negli anni perché ho detto ok vediamo e in effetti vi faccio vedere qualche esempio questo è un sito nel settore salute con fonte principale di traffico organico ai Google Ads quindi loro fanno principalmente SEO e paid advertising hanno 78% di traffico da mobile 56% di transazioni da mobile questo è un e-commerce settore articoli personalizzati fanno principalmente SEO avendo margini bassi 88% del traffico da mobile 58% delle transazioni da mobile brand con punti vendita fonte principale di traffico Google Ads e organico vendita solo in Italia 82% di traffico mobile 57% di transazioni anche quelle da smartphone brand questo è un grosso brand vendita worldwide 81% di traffico da mobile 67% di transazioni faccio vedere questo invece che è l'ultimo dove si vendono un settore calzature dove la fonte principale di traffico sono i social network non solo il traffico è da mobile al 90% ma le transazioni sono all'82% da mobile se il vostro questo addirittura il B2B anche che uno dice il B2B solitamente l'utente compra da desktop è in ufficio il 64% arriva sul sito da mobile quindi comunque il mio sito ha un ruolo fondamentale perché è il driver di traffico principale e il 32% anche se è B2B compra da mobile dovete comprendere che se la vostra principale fonte di traffico sono per esempio i social media e quindi andate a lavorare su quella che è la domanda latente tendenzialmente il vostro traffico e le vostre transazioni saranno principalmente da mobile quindi potete avere un sito che non è studiato per il mobile che non è ottimizzato che non ha dei percorsi di conversione fatti ad hoc per chi naviga da smartphone ed è una un ripiegare il sito desktop alla meno buona oppure dargli due martellate per renderlo navigabile ma renderlo navigabile non significa renderlo fruibile sono due concetti diversi rendere un sito navigabile è lo standard è la base perché figuriamoci se non fosse navigabile renderlo fruibile e vendere sono altri contesti quindi l'impatto del mobile è molto importante potreste anche avere tanto traffico di utenti questi sono due fenomeni il web rooming e lo show rooming molto interessante il web rooming sono quegli utenti che si informano tramite smartphone e poi acquistano sul desktop o in negozio principalmente in negozio tendenzialmente web rooming per chi fa multicanalità però significa che devo pensare il mobile già con i punti vendita poi vi faccio vedere degli esempi lo show rooming invece è inverso quindi sono nel punto vendita e dal punto vendita navigo online ma da che cosa navigo dal mobile ok quindi fate molta attenzione sulla parte del mobile tra l'altro google ad oggi ha dato dei segnali importantissimi importantissimi anche sia in termini di performance ma col fatto che sta indicizzando prima il mobile rispetto al desktop quello che va fatto è riprogettare il sito partendo dal mobile quindi fino a poco tempo fa si progettava sul desktop per poi lavorare in modalità responsive quindi andarlo a ridurre e riportare anche sul sito mobile oggi si progetta quindi già dal wireframe lo progetto sul mobile per portarlo poi a scalare sul desktop sapendo che il desktop pesa il 10% io lo so che se ci sono degli imprenditori e avete il monitor 27 pollici vi piace vedere il sito sul monitor 27 pollici ma mi dispiace dirvi che il resto del 80 90% delle persone navigano da mobile e quindi voi dovreste vedere il sito esclusivamente da quel lato lì non con l'iPhone 12 Pro o il Samsung S21 ma con una serie di device e per fare questo poi ci sono gli emulatori come per esempio browser stack che è un emulatore che ti permette di vedere se il tuo sito effettivamente si vede ed è navigabile sui vari device quindi questo per esempio è un sito completamente studiato il progettato che abbiamo fatto per non è ancora online però stiamo in fase di sviluppo è stato completamente progettato sul mobile è un B2B in parte anche B2C sì però il traffico arriva da lì quindi le sezioni gli elementi la value proposition la tipologia di prodotti la possibilità di creare selection è il mobile che guida tutta la parte di sviluppo lo stesso Unieuro negli anni che ha fatto tanti redesign ha avuto un approccio ultimamente ormai già da 3-4 anni completamente mobile first quindi addirittura ha portato anche le logiche del mobile first sul desktop tenendo il menu hamburger anche sul desktop utilizzando degli elementi studiati per il mobile che poi vanno a scalare sul desktop non si vede il desktop non sia importante però lo devo progettare partendo appunto dal mobile come vi dicevo Google aveva annunciato già l'anno scorso e poi l'ha ribadito l'ha reso ufficiale che i siti ad oggi vengono principalmente indicizzati dal mobile quindi fate attenzione a non eliminare degli elementi delle informazioni da mobile perché spesso che si fa si hanno tutti i contenuti sul desktop e da mobile si dice ok ne togliamo un po' così la pagina è più veloce è più breve fate attenzione perché Google indicizza quella parte mobile quindi che ci siano tutti i contenuti che ci siano tutte le informazioni ok per una corretta indicizzazione posso programmare in responsive o adaptive adesso vi spiego entrambi le 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 soluzioni il responsive è quello più distribuito ok che cosa significa responsive ho un codice unico che lo utilizzo sia per il desktop che per il mobile quindi è un codice che appunto responsive si adegua in base ai device e ho solo un template tendenzialmente che ho dei tempi di sviluppo anche più brevi e anche Google devo dire lo apprezza molto l'adaptive invece è un contenuto che è ottimizzato lato server direttamente per i vari device è come una navigazione in app tendenzialmente a livello di fruibilità ma tu hai dei costi di aggiornamento molto importanti perché è come se avessi tanti siti da dover aggiornare ogni volta in pratica lato server in base alle dimensioni e gli scalini tu spari passatemi il termine tra virgolette spari il contenuto adeguato in base alla tipologia per esempio di device vi faccio qualche esempio per esempio Moschino gruppo F è il nostro cliente è fatto su base responsive quindi piattaforma magento base responsive il layout è lo stesso che scala quindi il template è unico studiato a griglie che poi scala con i vari device cosa diversa invece è l'M punto quindi l'adaptive sarebbero tutti gli M punto che vedete come Zalando Zara è molto a scapito dei big player perché richiede comunque degli investimenti onerosi di gestione e quindi non tutti i merchant possono gestire una versione mobile tra l'altro se tu una versione adaptive tra l'altro se tu hai l'adaptive per esempio per il mobile spesso è come se dovessi gestire due siti diversi tra cioè spesso devi gestire due siti diversi tra desktop e mobile e quindi c'è più necessità di effort e di risorse di sviluppo dove siamo arrivati in questi anni ad AMP IMP Accelerated Mobile Pages e PWA Progressive Web App che sono stati foraggiati e Google porta la bandiera di questi due stack tecnologie di sviluppo AMP c'è già da diversi anni in realtà tutto il circuito per esempio di Google News è basato su AMP sono delle pagine molto veloci delle pagine statiche che inizialmente sono nate principalmente per le testate editoriali ma è possibile anche staticizzare e quindi svilupparle per gli e-commerce che cosa fa AMP carica sono delle pagine immaginate light quindi molto semplificate che dovete sviluppare secondo una tecnologia e passare il codice a Google quindi se voi poi avete le pagine in AMP l'URL comunque sarà un URL che passate a Google e che viene poi pubblicato online da Google basta che trovate cercate su Google News una notizia cliccate sulle principali testate da mobile ovviamente e vedete che quella pagina si carica velocemente è molto light è molto quindi ottimizzata è priva di tutta una serie di contenuti che vanno a caricare quello che è sia il peso della pagina ma anche di elementi che possono essere tranquillamente insomma omessi specialmente se devi fare contenuti e quindi l'utente tendenzialmente vuole leggere il testo invece di farsi caricare 8000 pubblicità come capita insomma nei siti non in AMP e ebay ebay è stato uno dei primi a investire nella tecnologia AMP anche Zalando aveva fatto dei test poi l'ha abbandonata quindi ebay ha le pagine staticizzate sulla parte mobile almeno aveva fino a qualche tempo fa almeno che non abbia cambiato attivamente e quindi sono delle pagine nate appunto per accelerare il caricamento delle pagine web diciamo che per l'e-commerce non è mai decollato AMP quindi è stata una tecnologia di sviluppo front-end che poi è stata più o comunque viene molto utilizzata ancora ad oggi per tutta la parte di contenuti editoriali siti editoriali per l'e-commerce sicuramente quello che si sposa meglio di tutti sono le progressive web app le progressive web app sono qui c'era una gif purtroppo adesso ho fatto il pdf quindi non me l'ha caricata sono delle app in browser tendenzialmente quindi è un modo di sviluppare il front-end in javascript quindi totalmente diverso dagli stack attuali permette di avere una navigazione flash su mobile ma anche sul desktop tendenzialmente quindi poi è la stessa tecnologia che porto anche sul desktop la si può navigare anche offline ti dà l'opzione di aggiungere la schermata alla home ti invia anche le notifiche push ed ha una navigazione veramente molto molto veloce come realizzare le pwa dipende poi in base anche alla tecnologia che avete per esempio magento ha delle soluzioni press a shop nella delle altre ma è indipendente tendenzialmente la progressive web app dalla piattaforma che avete cioè voi dovete riscrivere tendenzialmente un front-end del sito in javascript e poi lo potete legare tendenzialmente a qualsiasi piattaforma di back-end che avete appunto magento piuttosto che oddio su vcommerce e altre non ho esperienza ma tendenzialmente è da testare ancora è una nuovissima tecnologia si affianca ad amp ti dà la possibilità di adesso vi faccio qualche esempio di fruire il sito in modalità stile app quindi è super veloce i tempi di caricamento sono veramente inferiori al secondo appunto dicevo una tecnologia nuova alcune piattaforme come per esempio magento 2 supporta già nativamente le pwa che poi però devono essere sviluppate scritte e ci sono poi diverse soluzioni anche lì però da tenere molto in considerazione l'auto e-commerce perché il futuro è questo tendenzialmente poi per google che tu abbia il sito in pwa o in qualsiasi altra tecnologia quello che gli interessa è che il sito sia ben navigabile completamente indicizzato con tutte le informazioni passate adeguatamente a google ma soprattutto molto veloce quindi pwa o non pwa e pwa è una tecnologia che google ha tirato fuori dicendo signori siamo arrivati al punto che qui vedo siti non ottimizzati sul mobile quindi io vi do la mia tecnologia e il mio stack per poter fare un sito veramente veloce flash e questo è il futuro avere un app però tramite browser tendenzialmente quindi con molta probabilità dei progressi di web app andranno a sostituire anche in gran parte quelle che sono le app perché tu navichi da browser ma hai una navigazione veramente veloce qualche esempio special milano è stato uno dei primi progetti fatti in pwa su magento ma anche five miles flipkart oppure l'ultimo fatto da un'agenzia di san marino su magento 2 con view store front che è una delle possibili tecnologie da utilizzare per sviluppare poi pwa che viene supportata anche nativamente da magento è il sito di petroni farmacie tant'è che se lo navigate insomma da mobile vedete che è veramente veramente flash quindi complimenti a loro che l'hanno fatto è una tecnologia nuova ma da qui in avanti ne parleremo e se ne parlerà sempre di più perché è il futuro ricordatevi bene è mobile poi potete avere anche una vostra piattaforma custom e va velocissima quello che di solito i cms open source press shop magento o woocommerce appena installati devono essere veramente ben ottimizzati per farli correre poi la velocità del sito in realtà dipende da tanti fattori dipende meno di quello che pensate dall'hosting in teoria quindi dipende tanto 70-80% dal sito e il 20-30% poi dal server da come è stato impostato ottimizzato dipende da quanto contenuto avete nelle pagine da quante integrazioni avete quante chiamate esterne non so integrate 6 gestionali 8 fornitori e queste comunque caricano queste chiamate quelli che sono i tempi di caricamento quindi dipende da tanti fattori quelle che sono le performance del sito mi piacerebbe parlare ancora tanto di PWA però visto che i tempi stringono volevo passare a qualche caso studio e poi passiamo al takeaway finale dove ragioniamo su come e quando converte e quanto produce un redesign è un rubrico SPA un grosso brand analisi croc quindi partito dall'analisi attuale abbiamo visto tutte quelle che sono le criticità analizzato i dati le conversioni tutto quello che doveva essere ottimizzato in termini di analisi tecnica quindi siti dove non si vede bene mappe di calore sondaggi e tutto il resto per poi andare a produrre i wireframe mobile first da i wireframe che hanno tutto uno studio ovviamente ad hoc vengono prodotte quelle che sono le grafiche e adesso andremo in montaggio questo non l'abbiamo ancora montato se stiamo ancora lavorando quello che però vi volevo portare oggi sono due casi studio che hanno più storico perché perché noi il redesign lo andiamo a misurare in un anno cioè metto il sito online nuovo il 25 marzo io il caso studio lo porto il 25 marzo dell'anno dopo non te lo porto dopo due settimane perché non ha senso misurarlo perché sto andando a misurare una finestra temporale troppo piccola e quindi devo andarlo a misurare anno su anno ok sapendo che da quel giorno ho fatto il redesign e quindi vado a misurare l'aumento sapendo che non è solo il redesign che ti aumenta la KPI per esempio delle vendite devi andare a misurare tante micro KPI quando fai un redesign quindi i tempi di percorrenza di permanenza sulle pagine le frequenze di rimbalzo rispetto a prima se sono migliorate o peggiorate e tutto il mondo degli eventi quindi il click sulle icone il click sull'aggiungere al carrello il click sui banner ok quindi c'è tanta misurazione anche a livello di micro KPI e è chiaro che poi dopo un anno puoi dire ok abbiamo fatto redesign lì a livello di attività abbiamo fatto sempre le stesse allora l'impatto del redesign lo puoi andare a misurare come vediamo in questo caso anche su quelle che sono le performance di vendite su moto abbigliamento ci lavoriamo praticamente da sempre abbiamo fatto tutto l'intero processo quindi tutto il funnel crow di e-commerce school il wireframe insomma abbiamo fatto il template da zero custom abbiamo ottimizzato le prestazioni lato server abbiamo rivisto anche tante funzionalità quindi il redesign non deve essere puramente grafico e di design ma deve essere anche un'analisi che dice ok questa funzionalità la posso migliorare la posso rivedere la posso rimplementare in maniera diversa ok questo per farvi vedere mi metto un pelino ancora più piccolo il prima quindi era un sito che aveva tanti problemi di funzionalità con tanto traffico noi abbiamo fatto un redesign graduale quindi non stiamo andare a cambiare totalmente le logiche sì abbiamo rivisto un po' la section principale eccetera però comunque il grosso abbiamo mantenuto rivedendo quello che poi era una rivisitazione delle grafiche anche un riposizionamento un po' più in alto del brand stesso quindi questa è stata l'home page rivista che attualmente ancora è montata abbiamo inserito un menu drop down che prima non c'era che facilita la navigazione quindi ragionate anche su tutte le funzionalità aggiuntive che potete andare ad inserire il listing prodotto che aveva tantissimo traffico quindi l'abbiamo comunque cambiato migliorato ma non stravolto anche questo quindi abbiamo siamo andati sicuramente a ottimizzare come vedete la parte di header che era molto molto elevata la scheda prodotto l'abbiamo ripresa per andarla a migliorare valorizzare più la foto organizzare meglio le informazioni lavorare meglio sulla parte di descrizioni purtroppo bisognerebbe vederlo live comunque il sito lo trovate online ma per ovviamente punto it quindi potete vederlo carrello scomparsa che prima non c'era e questo è importante perché perché gli utenti aggiungono più di un prodotto a carrello e quindi non li porto a carrello direttamente ma con il carrello dinamico li continuo a far navigare sul mio portale e così non interrompo la navigazione il check out è stato fortemente ottimizzato con il check out one step un'ottimizzazione dei form abbiamo tolto il menu questo si chiama check out senza distrazioni ok quindi è stato completamente rivisto tutto ovviamente anche tanto la parte mobile che dà principale importanza ai punti vendita perché chi si approccia da mobile a 20 punti vendita cerca o meglio è più propenso a raggiungere il punto vendita e quindi l'abbiamo messi bene in evidenza abbiamo inserito il navigatore con google maps per dare l'opportunità all'utente se naviga dal mobile di poter raggiungere il punto vendita attraverso il navigatore questo ha portato anno su anno quindi siamo andati online con il redesign nel 2018 prima novembre 2018 se andiamo a misurare anno su anno un aumento quindi di pari di pari diciamo data un aumento dell'entrata del 29% il tasso di conversione ma soprattutto una maggiore navigazione e profondità di navigazione da parte degli utenti sul sito di moto abbigliamento poi se vi avessi messo anche il 2020 con il discorso del covid avreste dei numeri più 800% ma ripeto non ha senso quindi fate sempre il redesign dal giorno X misuratelo su un arco temporale lungo almeno 6 mesi un anno e fate il confronto con l'anno prima mai con i mesi prima o col periodo precedente sempre anno su anno dovete andare a misurare e diriamo un altro sito veramente preso da una situazione veramente brutta questo è il sito aggiustato da noi appena conosciuto il cliente con due martellate protempore tipo guarda intanto te lo sistemiamo così perché partivamo da questo quindi potete immaginare che la situazione era abbastanza complessa abbiamo rivisto tutto in ottica di posizionamento anche tutto il logotipo il brand le caratterizzazioni gli icon set i font e tutto il resto per andare a rifare l'home page adesso se vedete una marea di banner purtroppo li ha messi il cliente in maniera autonoma e noi decliniamo la responsabilità di quei banner messi online però insomma è andato online così come vedete le foto a parte di scherzi salutiamo i ragazzi con value proposition ben in evidenza che cosa vendo perché comprare da noi garanzie cerca tra 6.000 prodotti assistenza tutto above the fold ok quindi già studiato per loro hanno tanto traffico B2B ma anche una fortissima ottimizzazione mobile percorsi di navigazione grafiche interamente personalizzate e anche qui analizzate lato crow scheda prodotto completamente rivista con un'ottima categorizzazione e predisposizione degli elementi per poi arrivare a check out senza distrazioni sulla falsa riga di quello che vedavamo prima tutto in una pagina veloce ottimizzato e con i campi strettamente necessari anche se fanno B2B o B2C però far vedere centinaia di forma l'utente gli prende veramente non è piacevole per l'utente compilare così tanti fuori quindi è giusto farli vedere step by step anche loro anno su anno hanno avuto un incremento del 36% ma un tasso di conversione ha aumentato in maniera drastica quindi qui l'abbiamo visto ancora di più rispetto al modo di obbligamento quello che è stato l'impatto del redesign ne avrei tanti altri ma voglio arrivare al dunque perché siamo già in realtà alle 19 e 20 questo è una slide molto importante con dei concetti molto importanti quanto mi impatta il redesign sul mio sito cioè uno potrebbe chiedere io domani faccio il mio redesign quanto mi impatta la revenue quindi quanto ti ritorna è proporzionale al tuo traffico cioè tu puoi aumentare come abbiamo visto qui il 35% ma se tu o anche il 50 o anche il 70 ma se il tuo fatturato sono 10.000 euro tu lo aumenti di 3.000 euro e probabilmente ti ha costato di più il redesign del fatturato che ti rientra lo fai perché lo vuoi fare in maniera propedeutica al futuro sapendo che mandi traffico va benissimo allora prevedi in base al traffico che manderai un aumento delle conversioni e ti fai già le tue previsioni però in generale l'impatto immediato che tu hai è sempre proporzionale al tuo traffico al tuo database che hai nel tuo portafoglio clienti se hai molto traffico e clienti fidelizzati effetto un design graduale come abbiamo detto all'inizio ricordati sempre che il redesign da solo con un modello di business che non funziona non è che ti produce vendite quindi lavora sempre tanto sul modello di business se il tuo modello di business funziona e vai a ottimizzare l'usabilità allora l'impatto è veramente importante è veramente importante considerate che ci sono dei siti oggi che veramente hai difficoltà io non sono uno che compra su Amazon ci compro raramente ci compro quando non riesco a comprare fuori da Amazon ovviamente facendo questo lavoro mi piace mi diletto e compro su siti che non sono diciamo appunto Amazon a volte ho delle grosse difficoltà a concludere gli acquisti cioè non ho i tempi di consegna non so quando mi arriva non mancano i costi accessori mancano le informazioni sul prodotto il prodotto si vede male non è modo di vendere questo quindi mi raccomando è fondamentale questa parte qui però non date troppo vantaggio ad Amazon uscendo con dei siti passatemi il termine uscendo uscendo con dei siti che non sono navigabili e soprattutto non sono studiati sui vostri utenti infine il processo di ottimizzazione quindi quello cro deve essere costante come dicevamo all'inizio ma se dopo il redesign voleste ottimizzare ancora di più il sito ed aumentare ancora più le vendite agganci che cosa continua cro quindi anche dopo che hai fatto il redesign continui a fare analisi dei tuoi clienti sondaggi mappe di calore tutto il workflow cro per andare ad agganciare poi le attività di marketing automation perché perché il redesign ti ottimizza il sito su tutto il traffico aggregato mentre l'automation va a fare ottimizzazione sui segmenti quindi prima faccio il redesign e ottimizzo tutto il traffico poi vado a fare ottimizzazione sui segmenti con l'automation e quindi vado a lavorare ancora più in profondità più di fino e su quello che viene chiamato appunto retention marketing che è sempre più importante se volete approfondire questo argomento a giugno covid non covid comunque questo corso lo facciamo se non ci sarà possibilità di venire in aula lo faremo in streaming e poi l'edizione prossima vi inviteremo in aula il corso avanzato di secondo livello quindi continuiamo con tutta la parte di ottimizzazione e di crescita dell'e-commerce la fase 2 quella di scalabilità che è quella più importante e quindi riprenderemo in parte anche alcuni argomenti che abbiamo visto oggi per andarli ad approfondire vi lascio qualche 5-10 minuti appunto per le domande vi ringrazio in anticipo e vi dico anche che giovedì primo aprile con Nicola Infantino di moto avviamento faremo una live sulle private label perché ne parlavo l'altro giorno sul gruppo è un argomento che diventa sempre più importante vedo sempre più soldi buttati dalla finestra sapete bene insomma per quali motivi perché magari vengono seguiti delle figure poco raccomandabili che promuovono le private label come se fossero panacea o comunque l'uovo di colombo che qualsiasi cosa produci la riesce a vendere quindi faremo un bel focus seguiteci sul gruppo se non siete ancora iscritti al gruppo di e-commerce school cercate e-commerce school group e vi potete attivare mi metto a leggere le domande allora questo webinar qui non sarà è una live sarà quindi vi basta iscrivervi al gruppo poi lo pubblicheremo vi attivate ricevi la notifica e poi giovedì primo aprile a 18.30 vi arriva la notifica tramite facebook e lo vediamo Rosanna ci chiede per un nuovo progetto e-commerce food oggi è meglio pensare ad un'app o pwa senza app io penserei al modello di business Rosanna perché il food e poi trovare delle live all'interno della nostra academy abbiamo fatto due live una con Cicalia e un'altra con Marco Biasin di Futtaweb che è il nostro direttore operativo anzi vi lascio qui un link con tutte le lezioni gratuite quindi per chi magari non le ha già viste vi potete scrivere sono una ventina lezioni gratuite oggi l'argomento di oggi è stato un pochino magari avanzato però molti argomenti li facciamo anche un po' più di base per approcciare chi sta partendo oggi quindi prima di pensare all'app la pwa ragionerei bene sul modello di business puoi partire anche con un sito non in app non una pwa ma ben ottimizzato per il mobile quando poi cresci perché comunque fare le pwa tra parentesi oggi ha un costo non indifferente e quindi non andrei a caricare subito quel costo lì ma partirei con un sito ben studiato sulle pwa e ragiona molto sul modello di business perché devi trovare la sostenibilità in un contesto come quello del food il corso di primo livello ci dice Max è acquistabile è acquistabile chi lo acquista c'è già la videoregistrazione di dicembre quindi parliamo di tre mesi fa è freschissimo e lo abbiamo adesso spostato a novembre perché diamo la possibilità di acquistarlo si può già frequentare il corso video di dicembre e poi a novembre con lo stesso biglietto si può rivenire in aula e avremo ancora più contenuti perché quest'anno stiamo producendo tantissimi casi studio da portare anche in aula Luciano ci chiede per Etiliamo avete curato anche il posizionamento di marketing in realtà no li abbiamo aiutati in un momento di guado puro quindi abbiamo fatto redesign abbiamo fatto formazione abbiamo aiutati con l'implementazione del team e e gli abbiamo passato due o tre professionisti per la parte di advertising come Luigi Sciolti che gli sta seguendo le campagne ma per il resto fanno tutto internamente poi Andrea le pagine AMP convertono personalmente quando le vedono perdo il look and feel e penso di essere entrato in qualche sito truffaldino non so se questa sensazione vale più generale per gli utenti Andrea ottima domanda sicuramente le pagine AMP eliminano tanti elementi quindi è una pagina destrutturata bisogna essere bravi a tenere quegli elementi che non fanno perdere la percezione del brand e quindi bisogna trovare un po' il giusto equilibrio sia che sia e-commerce sia che non sia un e-commerce ecco quindi questo è importante Martina dice non deve essere una legge di partire da mobile dipende da tante cose puoi anche partire da desktop se vuoi però lo sarà legge sempre di più è chiaro che devi essere ottimizzata per il mobile il traffico l'ottanta per cento arriva da lì quindi tu puoi anche chiuderti un occhio e dire il desktop è figo però gli altri utenti arrivano da mobile quindi ti dico già che oggi è legge il mobile e ti consiglio se fai un redesign di partire assolutamente dal mobile massimo ci chiede piccole aziende che vogliono partire da zero con pochi prodotti nessuna esperienza di vendita online non possono insegnare i costi in un design ad hoc tendenzialmente prenderanno per template i partaformi le prese Shopify o WooCommerce assolutamente quindi tu parti già dalla start-up quindi qui oggi abbiamo visto quello che vai a fare quando sei già online hai già prodotto fatturato hai già tanti clienti e quindi inizi a fare un processo di redesign migliorativo in fase di start-up applichi le best practice che insegniamo nel corso e lavora molto sulla value proposition sul modello di business offri un servizio di qualità perché è la base quindi ottima logistica ottima customer care e da lì poi porti traffico cresci e poi inizi a ottimizzare strada facendo e redesign infatti come ho detto all'inizio viene sicuramente dopo Paola dice ha senso creare un'app per un e-commerce che non ha tantissimo traffico dipende che ci fai con l'app tendenzialmente ma devi portare traffico anche sull'app se poi intendi la PWA ti direi di no cioè punta al traffico prima quindi il primo obiettivo vostro quando andate online è di produrre traffico di produrre vendite perché se non producete traffico non producete neanche vendite quindi la prima cosa è aumentare il traffico come lo produco il traffico con la SEO ma quando vai online ci vuole un anno o due anni prima che diventa sostanziale altrimenti lo compri lo compri su Google lo compri con le affiliazioni lo compri sui social lo compri su Instagram su tutti i canali lo puoi comprare compri sai che quel traffico ti costa X ogni click ti porti il traffico sul tuo sito vedi quando converti se stai in bolla scali questa è un po' la logica le dinamiche di logistica ci chiede Giuseppe per chi deve gestire internamente senza terzi sarebbe un argomento interessante che per i processi software assolutamente parleremo di logistica ne abbiamo parlato tanto nella live dell'e-commerce food nella food e-commerce che trovate nelle lezioni gratuite perché la parte logistica nel food è veramente importante in generale ovunque però nel food se non lo ottimizzi bene se tu cresci crei costi questo è un po' il concetto poi in tutti i settori ne parliamo durante il corso tanto di logistica ma vi prometto che faremo anche una live Giuseppe dice dove posso consultare un elenco delle best practices di cui parli anche indicative abbiamo tanti contenuti sul blog Giuseppe sulle best practices trovi schede prodotto home page quindi fai una bella googlata vai sul nostro blog e trovi già tanti contenuti gratuiti nelle lezioni gratuite ci sono altre lezioni dove parlo di best practice e sono tante però in questi webinar di un'ora solitamente do le indicazioni più importanti dice Martino attenzione ho detto che non bisogna ottimizzare la mobile anzi ma anche a seconda di vari fattori si può anche per dire adesso con il design e poi ottimizzare con il mobile sì in realtà sì mi piace però insegnare una cultura che oggi parta dal mobile è questo Martino cioè è chiaro che magari se tu sei già del settore oppure sai che puoi sviluppare sul desktop e poi fare un'ottima ottimizzazione mobile sì però quello che dobbiamo fare noi anche da formatori è portare una cultura di dire ragioniamo dal mobile perché oggi io mi sono trovato a vedere anche dei wireframe che erano fatti sul desktop ho detto il mobile e il mobile lo facciamo dopo e no cioè la progettazione che deve partire da lì quindi è questo quello che ci tenevo a dirti vediamo se ci sono altre domande direi di no allora signori ragazzi grazie mi ha fatto piacere di passare quest'ora con voi ci vediamo la settimana prossima con una nuova live continuate a seguirmi grazie e buona serata a tutti ciao 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 ciao